UbiBanca annuncia il superamento di un miliardo di euro collocato tramite Social Bond, il prestito obbligazionario solidale. In Toscana è stata la città di Arezzo nel 2018 a sperimentarlo per prima e poterlo sottoscrivere devolvendone una parte 25 mila euro al Calcit. I Social Bond sono prestiti obbligazionari che offrono al sottoscrittore l'opportunità di ottenere un ritorno sull'investimento paragonabile a quanto offerto dalla banca su investimenti analoghi e nello stesso tempo di contribuire al sostegno di iniziative di rilevanza sociale. Al termine del collocamento la banca devolve una quota predefinita nel caso di Arezzo appunto 25 mila euro a supporto di questi progetti. Siamo arrivati a questo risultato con una magnifica capacità di analisi dei bisogni del contesto sociale del paese, afferma Letizia Moratti, presidente del Consiglio di gestione di UbiBanca. Oggi coniugare solidarietà e profitto non solo è possibile ma necessario. Sono 91 i progetti ad impatto sociale che abbiamo sostenuto con il Social Bond e sono oltre 100 mila i beneficiari diretti dei progetti stessi. In Toscana il Social Bond Ubi Comunità per Calcit Arezzo, sottoscritto per il 70% nella sola provincia aretina, ha contribuito al sostegno del progetto Breast Cancer Unit, il centro di senologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, consentendo l'acquisizione di un mammografo di alta fascia con tomosintesi.